Kendrick Lamarre il figlioccio artistico se così vogliamo dire di Eminem uno dei pochi che Slim Shady diceva ha sempre detto ragazzi questo c'ha talento questo spacca ed è uno dei pochi che è riuscito a restare moderno più pur rappando in maniera abbastanza violenta. Facciamo un passo indietro siamo nel 2015 e negli Stati Uniti è un periodo di fuoco c'era il Thanksgiving Day e c'era un susseguirsi di materiale da parte dei top rapper tra questi Kendrick Lamarre che fa un remix di A Tale of Two Cities di J. Cole ricambiando il favore che quest'ultimo aveva fatto al cantante di Compton perché ricordiamo da dove viene appunto non a caso Strange Hota Compton remixando All Right e hanno fatto hanno intitolato i loro remix Black Friday e da tempo insomma si vociferava un progetto insieme già ai tempi e questo poteva sembrare un assaggio che faceva sperare bene ai loro fan Il testo e il pezzo neanche a dirlo è una mina che poi sono due tracce remixate che vanno a fare in totale sette minuti e insomma è una controparte diciamo di questi due brani che abbiamo citato remixati e niente il rilascio di Kendrick la release ha avuto un amore molto vasto di fatti tocca diversi temi che ai tempi erano scottanti come la candidatura di Kenny West per la presidenza Non era il 2015 ogni anno Kenny West ricaccia sta storia e ogni anno ci si prova ad avvicinare il fatto ragazzi che la candidatura riceve rivoti insomma l'urna è un po' più difficile del mercato discografico Però è sempre un argomento di tendenza i 10 migliori rapper di Billboard di tutti i tempi e la sua rivendicazione al trono dell'hip hop Insomma un bel mix di roba in questo Black Friday e sono passati tanti anni e noi siamo qui a parlarne perché comunque pur non essendo una release ufficiale ad esempio il video YouTube che vede i due brani uniti conta ben 73 milioni di visualizzazioni per intenderci Grazie